Gara bloccata e il risultato sostanzialmente giusto nella sfida dei tanti ex tra Martino e Bitonto. Occasione persa per i padroni di casa per avvicinare la zona più nobile della classifica, mentre Punto che fa morale classifica per i nero-verdi di Modesto e Santoruvo. Subito in campo, prinari alle spalle del tandem Palazzo Figliolia nel 3-4-1-2 di partenza, mentre c'è Bonanno al fianco di Palermo nell'attacco di Pizzulli che manda in campo, nella ripresa il mio arrivo, uno degli ex Emanuele Tedesco. Tanti sbadigli nei primi 25 minuti di gioco. Quando la gara vive due folate improvvise, Altursi Figliolia colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione attento, il classe 2005 Pirrò tra i pali. Dall'altro lato è Bonanno, sempre su palle inattiva a servire in area baglione, libera la difesa ospite. E invece decisivo, Pirrò al 37esimo, sul tiro di Palazzo in pieno area di rigore. E anche la parola a fine, su di un primo tempo avaro di emozioni ma con il Bitonto vicino al vantaggio. Dall'ispogliatoi tuttavia rientra in campo un Martina decisamente più in palla e neanche un giro di lancette. Serve a Baglione per ritrovarsi in area la palla buona per battere a rete, ma temporeggia troppo e perde il tempo giusto per superare Diamè. Ancora occasione per i padroni di casa, con Bonanno imbeccato da Baglione, ma il suo tiro non inquadra lo specchio di pochissimo. Rizzo non arriva di un soffio per la deviazione decisiva su di un colpo di testa in area. Martina decisamente più in palla nel primo quarto d'ora, ma che sbatte sistematicamente contro l'Arcini a fase difensiva del Bitonto, a protezione della porta di Diamè. In campo ci vanno anche Piarulli al suo esordio e tedesco per i padroni di casa, ma nel tabellino non c'è da annotare praticamente più nulla in termini di pericoli per le due porte, se non per gli undici ammoniti, complessivamente per le due squadre. Il Martina resta nelle zone alte della classifica, come detto, in piena zona playoff e perde però l'occasione per avvicinare anche il primato. Domenica prossima sfida esterna a rotonda, per il Bitonto invece aggancio al Gallipoli in fondo alla classifica e domenica prossima sfida verità contro il Santa Maria Cilento tra le muramiche.